Mi piglierà lì? Madonna! Cento anni e non sentirli mai detto popolare fu più azzeccato. Bruna Pratesi, a retina doc, ha appena soffiato su cento candeline. Un traguardo festeggiato nella sede della Misericordia di Arezzo, dove Bruna ha speso. 40 anni della sua vita. Io ho lavorato, mangiare alle sue ore, non mi dire ma passo un pranzo. No, io mi alzo la mattina per fare colazione e arrivo da letto. Nata il 2 aprile del 1924, sposata e con cinque figli, uno ci racconta un po' più speciale. Ascolta, sono sposata, cinque figlioli. Io, siccome ho fatto sempre le opere buone, trovo un bambino che non ama nessuno. Io ho un figliolo. L'ho portato a casa mia, l'ho fatto dormire nel divano, l'ho fatto studiare. Ora ha sposato. Io sono la mamma Bruna per lui. È una grande testimonianza la Bruna in tutti questi 40 anni che ha lavorato qua e ha testimoniato i suoi valori qui in Misericordia. E ci auguriamo di arrivare tutti a cento anni come ci è arrivata lei. Con una viva città da fare invidia ad una ventenne, Bruna dispensa ancora consigli preziosi e si avvia dunque oltre il secolo di vita. Consiglio dada mamma Bruna allora. Che consiglio può dare? Che i genitori devo fare da genitori.